Sono Stefania e ho la passione della fotografia come te e ti porterai nella mia città, Milano. Ho trovato un progetto per il tuo prossimo lavoro fotografico. Il lavoro lo intitoliamo Una finestra sulla città, che sarà un bel giro in tram. Milano ha tre strade principali. Immagina che questa sia Milano. Noi abbiamo tre giorni, quindi ogni giorno prenderemo il tram e gireremo le tre circonvalazioni. Una cosa importante, le fotografie io le farai esclusivamente dall'interno, dove vedremo appunto il legno del tram, la finestra e il dettaglio che tu vorrai scegliere. Aspettate, e il dettaglio che tu vorrai scegliere. Ciao!